Già dagli anni scorsi era cominciata l'unione di tutte le associazioni, quest'anno ancora di più abbiamo aumentato le associazioni e il gruppo dei volontari che lavora. Le parrocchie tutti insieme ci siamo messi di buona volontà da mesi a lavorare per il Natale 2015. Quindi ci saranno tante novità che presenterete in una conferenza stampa? Sì, faremo due conferenze stampa, una a Pesaro e una a Urbino, dove presenteremo tantissime novità quest'anno che provengono sia da Bolzano ma anche dal nostro territorio. E soprattutto anche tante novità all'interno del nostro paese, del nostro mercatino di Natale, create dai nostri volontari.